eccolo è arrivato a fine agosto dji osmo mobile 4 appena presentato appunto da dji benvenuti o bentornati nel canale stamani avevo pubblicato un video su una nuova mia rubrica qualcuno di voi l'avrà visto dove facevo vedere anche l'osmo mobile 3 che mi era prima riacquistato da amazon dopo che l'avevo regalato a un amico certo che costa 40 euro in meno eppure lui vedrete che ci tornerà molto molto utile ma oggi dji presenta lo stabilizzatore pieghevole magnetico sì esatto questa è la novità più importante mi sono arrivate almeno su questo argomento cinque email nelle mie caselle da parte di dji in tutto il giorno su questo oggetto appunto a questo punto vediamolo velocemente e ovviamente insieme beh come al solito ragazzi un like al video sarebbe fantastico non avete paura è gratis e mi date una mano davvero a crescere se non siete poi iscritti beh nel canale siete veramente i benvenuti dunque iscrivetevi oggi non potevo non parlare dello stabilizzatore ultracompatto di dji ovvero l'osmo mobile 4 che a breve ovviamente vedrete qua nel canale all'opera e lo confronteremo come è giusto che sia con il modello precedente ovvero l'osmo mobile 3 per capire se ci sono davvero qualche decina di euro di differenza tra due mi trovo a Livigno una località di montagna sono qualche giorno in vacanza ma per forza dovevo portarvi questo contenuto e dunque vediamolo velocemente insieme e vediamo quello che ci offre appunto questo nuovo stabilizzatore marcato dji intanto partiamo dal prezzo il prezzo è 149 euro lo stabilizzatore come vedete dalle immagini è molto molto simile direi uguale all'osmo mobile 3 l'unica differenza è questo questo aggancio che dji appunto ci indica come magnetico e questa a mio avviso è la più importante novità di questo nuovo oggetto della dji qui abbiamo un video e ci dice infatti come vedete progettazione magnetica portate le pieghevole come era e come è il mobile 3 modalità storia che la usiamo direttamente anche con l'applicazione mimo anche con il 3 poi c'è il controllo di gesti l'active track 3.0 e il rollio rapido andando a vedere appunto la cosa che più colpisce è questa progettazione magnetica a rilascio rapido come vedete di fatto c'è un morsetto magnetico e un portanello magnetico che consente appunto di agganciare in modo velocissimo il nostro smartphone direttamente allo stabilizzatore e questa è una novità davvero molto interessante perché vi assicuro che non era troppo troppo diciamo veloce e utile andare a agganciare il nostro smartphone direttamente al morsetto che sostiene il telefono dell'osmo mobile 3 come vedete abbiamo appunto le modalità di scatto intelligenti l'active track 3.0 la modalità storia la zoom dinamico il clone piano il controllo dei gesti ovviamente timelapse come succedeva anche con l'altro oggetto della dgi l'hyperlapse la possibilità di fare tutta una serie di cose creative come la modalità spin ovvero ruota lo smartphone per un effetto di ripresa molto migliore qui dice impressionante uno slow motion e questo vabbè lo faceva anche il nostro un pano 240 un 3x3 pano sono tutte cose che anche con l'osmo mobile 3 lo facevamo appunto usando l'app dgi mimo ovviamente lo stabilizzatore è a tre assi e ci consente di non fare filmati mossi ma di fare delle immagini molto fluide e molto interessanti come sapete nel canale io proprio stamani ho portato una nuova rubrica dove parleremo di lui o dei già dei video sull'osmo mobile 3 per cui lo vedremo ovviamente nel dettaglio ha la possibilità anche del rollio rapido ovvero premendo due volte il puzzante m per passare alle varie modalità e anche questo no se già faceva l'osmo mobile 3 e quant'altro vedete qui il contenuto della dotazione possiamo vedere c'è appunto l'osmo il dgi osmo il portanello magnetico da agganciare allo smartphone oppure il morsetto magnetico da agganciare allo smartphone il treppiede il cavo d'alimentazione e il borsellino praticamente è una versione combo dell'osmo mobile 3 vedete ecco tutto qua di fatto è un nuovo prodotto con funzionalità nuove ma soprattutto la novità molto interessante è appunto inserita all'interno di questa progettazione magnetica a rilascio rapido come detto questo stabilizzatore ha un sistema di attacco magnetico a scatto rapido che credo sia davvero la novità assoluta di questo nuovo oggetto dgi è per davvero quella cosa che mancava nel modello precedente della dgi ovvero l'osmo mobile 3 per quello che si legge ci sono dei motori migliorati per creare nelle varie modalità immagini ancora più fantastiche ancora più fluide nel movimento usiamo ovviamente sempre l'app dgi mimo per fare i nostri video con l'osmo mobile 4 come usavamo per il 3 io ho già provveduto ovviamente ad ordinare questo oggetto proprio perché voglio portare contenuti come dicevo appunto stamani nel mio video che vi lascio qua sopra nelle schede anche da terra con tecniche di ripresa proprio fatte grazie a dei gimbal manuali appunto di varie generi che di fatto sono più o meno tutto uguali anche se l'osmo mobile grazie a mimo è ovviamente avanti ovviamente andremo anche a vedere quali reali differenze ci sono tra i due ovvero l'osmo mobile 3 e questo appena uscito appunto di dgi dunque restate ovviamente sintonizzati qua nel canale perché cercherò di portarvi contenuti comparativi ovviamente e freschi su questo nuovo interessante argomento andatevi a vedere i miei profili social instagram e facebook vi lascio qua sotto i link in descrizione dove troverete un po' di immagini di questi miei tre giorni qua in montagna a Livigno ciao a tutti dalla Lombardia da Bignette